Sono tra l'altro in corso in queste settimane i rilievi presso Corte Castiglioni che sono funzionali alla progettazione dell'intervento finanziato con i 2 milioni di euro erogati per il Fondo Terremoto. Quindi la ditta sta già operando, la ditta che abbiamo individuato con la gara e naturalmente fornirà le giuste indicazioni ai progettisti che interverranno sulle parti strutturali di Tetti e Solai. Interveremo su quattro plessi delle nostre scuole nonché sugli impianti sportivi quindi andremo a rinnovare e a rendere migliori quelle che sono le illuminazioni dei vari ambienti e naturalmente migliorandole ed eleguandoli con le più moderne tecnologie. Allo stesso tempo stiamo seguendo i lavori che sono già in corso concordati naturalmente con l'arma dei carabinieri presso la caserma dove sono state seguite le indicazioni appunto che sono state fornite dall'arma stessa per migliorare e rendere più funzionale la nostra caserma dei carabinieri e renderla più moderna.